Ciao a tutti ragazzi, io sono Valerio Farone. Io sono tornato da Redicola con questa nuova collezione che si chiama Super Dinosaur 5. Nella copertina c'è uno Pteranodon e un T-Rex dalla bocca aperta. E dietro c'è uno Spinosauro. Adesso sono prodotti ma non si sa. E qui c'è scritto di ascriverti dalla bustina di vedere tutta la collezione. Adesso apriamo e vediamo che c'è la caccia. Che è il Dinosauro. Bustine, bustine. No. No, mi fighissimo. Fighissimo, fighissimo. E si chiama. Si chiama Dilophosaurus eterili. E' uno speciale. Vediamo che collezioni ci sono. Allora, in questa collezione c'è il Dracovenator, Regenti, Spinosaurus, Egyptiacus, Carnotaurus, Sastre, Tyrannosaurus Rex, Pterodatilus Atticus, Nostro Delophosaurus, Nostro Delophosaurus, Eaterili, Ankylozaurus, Manieventris, Triceratops, Oredus, Velociraptor Monliensis, Brontosaurus, Exelius. Poi Stegosaurus, Stegosaurus, Parasaurus, Parasaurus, Parasaurolofus, Eaterili. E poi i due che si illuminano al buio che sono Teranodon, Logiceps, Giganotosaurus, Carolini. Spero che questo video vi sia piaciuto e scrivete nei commenti di che cosa è il prezzo e di cosa è il prodotto. E che ne pensate di questo video? Mettete un bel like. Ciao!